Torna la campagna di Lega Ambiente Puliamo il Mondo e il circolo Anselkis di Torchiara Alto Cilento si conferma tra i più attivi del territorio. Saranno ben 5 le giornate in cui i volontari insieme agli alunni della scuola primaria di diversi istituti comprensivi procederanno alla pulizia di strade e piazze cittadine. Si comincia domani, venerdì 22 settembre, con gli alunni di Laureana Cilento, mentre sabato 23 toccherà il plesso di Pregnano Cilento. Domenica 24 invece l'appuntamento è con gli alunni e cittadini di Rutino. Anche ad ottobre sono previste due giornate, il 6 con la scuola di Torchiara e il 28 con quella di Ogliastro Cilento. La campagna Puliamo il Mondo è giunta quest'anno alla 25esima edizione e come dichiara il presidente del circolo Lega Ambiente Anselkis, Adriano Maria Guida, è un'occasione importante per educare le giovani generazioni alle buone pratiche della sostenibilità. Quale area vi occuperete in particolare? Sì, ci occuperemo dei centri storici e delle strade secondarie, anche dei sendieri dei vari comuni in cui svolgiamo le attività. I comuni per esattezza saranno i seguenti, Torchiara, Laureana, Rutino, Pregnano Cilento e Gliastro Cilento. E a tal proposito aggiungo il tema di quest'anno è importante e dice appunto per sostenere il mondo non bisogna essere un mito, proprio perché tutti noi, ciascuno di noi in modo particolare, ecco i bambini, possono fare la propria parte con piccoli gesti. Piccoli gesti che mi piace dire non sono altro che piccoli gesti d'amore, perché appunto il rispetto dell'ambiente non è altro che un gesto d'amore, anche la stessa creazione lo è, no? Infatti, come dice Papa Francesco nella Laudato Si, il creato è la manifestazione materiale dell'amore di Dio. Ecco, in questa occasione importante, come dire, l'esempio dei più piccoli, vogliamo fare una tiratina di orecchie ai più grandi, perché purtroppo anche nel nostro territorio denunciamo tante volte tante micro discariche abusive. Allora, vogliamo ricordare l'importanza di tutelare e salvaguardare il nostro patrimonio ambiente? Assolutamente sì, noi come circolo, da quando ci siamo costituiti, stiamo facendo una forte battaglia in questo senso, in modo particolare nei comuni in cui operiamo e ci accorgiamo sempre di più, noi stiamo facendo una mappatura del territorio, che ci sono sempre maggiormente queste micro discariche che nascono dalla sera alla mattina, molte delle quali ci sono da anni, in cui c'è anche una forte presenza di rifiuti speciali e di RAE che devono essere assolutamente smaltiti e che hanno un forte impatto inquinante sulla natura. Buon lavoro. Grazie. Grazie.